Buona serata a tutti, buon centro della settimana, puntata di oggi che parla in termini pratici di ciò che manca ad alcuni rasoi, alcune case produttrici di rasoi che hanno fatto la storia della rasatura che ci hanno permesso di acquistare i loro prezzi in questi anni, ma proprio quando abbiamo iniziato a raderci abbiamo creduto in loro e crediamo ancora in loro, tant'è che fanno parte del nostro armamentario che utilizziamo spesso o anche molto spesso. Ve gli mostro, stiamo parlando in ordine di rassegna di Edwin Jagger di E89, abbiamo Mühle R41 e il Fatib Classic, in questo caso il Fatib Classic. Che cosa possiamo dire di questi rasoi? Sicuramente che cosa manca loro? Che cosa aspetta il pubblico? Questa è una puntata un po' di giornalismo che non va a fare un consultivo di ciò che è avvenuto, ma di ciò che ci aspettiamo invece. Oppure magari che cosa mi aspetto io? Che in qualche puntata ho già anticipato qualcosa, ho già chiesto, ho già detto, ma magari per coloro che si avvicinano adesso al mondo della rasatura, vedono questo video e la prima volta che vedono il Dilegna che dice qualcosa, facciamo appunto un sunto di cosa mi aspetto da queste case costruttrici. Parliamo di Edwin Jagger per esempio, bando alle ciance, inutile ripetere che ne ho già rotti diversi perché mi sono caduti per terra. Ma tralasciamo quel particolare, lo farebbero comunque molti altri rasoi. In questo caso è stato molto sfortunato il mio. Edwin Jagger. Edwin Jagger nella propria linea ha certo i modelli quelli placcati in oro che ho anche io, con le versioni gold. Però tra il rasoio di E89 e la versione 306 c'è un enorme divario, c'è un buco, c'è veramente una cava da colmare. Manca la fascia media per esempio in Edwin Jagger. E' vero, abbiamo questo che è in lega e poi abbiamo il 306 se vogliamo andare su un metallo più prezioso, che è ciò che ci aspettiamo noi. A parte i costi che sono abbastanza elevati, perché parliamo comunque di un rasoio il 306 che si attesta intorno ai 100 euro, quando invece abbiamo il D89 che naviga dai 30 ai 35 euro, a seconda del modello. Poi ci sono anche quelli superiori che vanno anche oltre i 45 euro, che sono le versioni gold. Ecco, ci aspettiamo, mi aspetto che Edwin Jagger costruisca qualcosa di diverso, magari una versione impreziosita sì, ma non sempre in lega. Lo vorremmo magari in alluminio, ecco, visto che manca nel loro comparto, no? Cioè alluminio, una lega un po' diversa, un po' anti-corrosione, un po' come fa il rasoio, no? E' vero che abbiamo il 306, quello sì, un metallo più prezioso, certamente, però una versione che consenta all'utente medio di potersi accostare al rasoio, no? Senza per forza spendere 100 euro, una via di mezzo, e non sarebbe male. Questo è quello che mi aspetto da Edwin Jagger nei prossimi, oramai non possiamo dire mesi, ma parliamo di uno o due anni. Sì, in un biennio ci può stare. Passiamo a Mühle R41. Mühle R41 dopo la versione, questa è la versione corretta in realtà di Mühle R41. Perché la versione corretta? Perché la versione precedente era troppo aggressiva, quindi hanno dovuto emettere una versione che fosse più domabile da parte dell'utente, perché la versione precedente aveva un coprilama più stretto, quindi la lametta sporgeva di più e, a detta di alcuni utenti, sarebbe stata più aggressiva, più efficace, voglio dire più aggressiva. In ogni caso, con la lama più serrata, essendo il coprilama più ampio, la lametta risulta domata, più serrata e più controllabile da parte dell'utente. Cosa manca a Mühle? Manca sempre una versione di mezzo, media, perché abbiamo da una parte abbiamo il Mühle R89, per esempio, e Mühle R41, e dall'altra abbiamo Mühle Rocca, nelle sue diverse versioni, sfaccettature, eccetera, eccetera. Manca però uno, una versione di mezzo di un R41 oppure di un R89, ma non una versione da 80-90€, una versione proprio di mezzo, che costi 55-60€ massimo, ma soprattutto per R41 manca la versione acciaio, che potrebbe benissimo costare anche 100€, perché è un rasorio che ha una fama tale che qualunque utente, almeno il 70% di utenti che ora possiede R41 fatto in Lega, ZAMAC, lo comprerebbe se fosse stato in acciaio, se fosse in acciaio, una versione nuova. Questo ne sono sicuro. Magari il 70% è azzardato, ma la metà degli utenti lo prenderebbero oppure no? Secondo me sì, buona parte sì, ma se Mühle non si è ancora mossa, è probabile che i costi di realizzazione del rasoio sarebbero molto elevati, così come anche la distribuzione rispetto al numero di vendite, perché comunque la progettazione e avvalersi di macchine che possano costruire, comunque lavorare, l'acciaio costano molto, soprattutto per l'ampiezza del mercato. Chiunque quasi oramai dei tonsori possiede un R41 in casa? Credo che anche un self barber che abbia acquistato dei rasoi non penso sia fatto mancare l'R41. Per quello che manca assolutamente è la versione acciaio di questo articolo. O acciaio o alluminio comunque, una lega più nobile, che si mantenga nel corso degli anni. Non tutti, qualcuno ha anche l'R41 rovinato, rovinato dal tempo. Una lega che duri nel tempo, importante. In ultimo, ma non meno importante, FATIP. FATIP di passi da gigante ne ha fatti, rispetto alle due versioni precedenti che abbiamo visto, le due case precedenti, Edwin Jagger e Müller. Di passi da gigante ne ha fatti, assolutamente. Questo per esempio è uno dei FATIP che ho acquistato sei anni fa, praticamente, quando ho iniziato a radermi. Ebbene, guardate, sicuramente avrete anche voi le versioni, quella con il coprilametta dove si vede la controvite che sta sotto, la saldatura della controvite che sta sotto. Non è sicuramente il FATIP a cui siamo abituati oggi, perché comunque i FATIP fabbricati recentemente, per esempio, non hanno più le sbavature sul nottolino. Sono realizzati sicuramente molto meglio. Ecco, FATIP costruisce i propri rasoi con l'ottone. Anche che, se vogliamo vedere, è un materiale migliore di una lega degli altri due. L'unica cosa è che l'ottone è anche abbastanza duttile. Io preferirei una versione sempre, l'alluminio magari no, perché il FATIP io in alluminio sinceramente non ce lo vedo. Però una versione magari in acciaio non sarebbe male. Ma soprattutto con il manico più pronunciato, perché lo vedo un po' piccolo per la mia mano. Lo vorrei un po' più pronunciato, un po' più bombato, cicciotto, qualcosa di esclusivo e magari con una zigrinatura diversa. Quella che potrebbe essere anche l'igoidale, quella utilizzata per esempio per lo storto, che non è male. però fatta in un materiale diverso. Ecco, tra queste tre case, l'ultima che è FATIP è quella che probabilmente si è messa più in gioco e ha creato, ha diversificato i propri modelli. Basta un piccolo sforzo in più, piccolo, che però se non l'ha ancora fatto, FATIP probabilmente è per lo stesso motivo di miule, ossia che è difficile reperire delle macchine che sappiano lavorare dell'acciaio, ma soprattutto per andare a coprire l'utenza, perché sarebbero veramente invasi dalle richieste. Quindi è probabile che mantengano questo standard produttivo, proprio per perché è quello che riescono a fare in questo momento. Benissimo, io direi che questa puntata si conclude. Spero possiate prenderne spunto per avere anche voi delle delle riflessioni. Anzi, vi pregherei di scriverle sotto nei messaggi in modo che io possa poi verificare e fare un eventuale video secondo le vostre richieste per altre esigenze, su prodotti, su saponi, su qualsiasi cosa. Sono molto utili. Mi avete aiutato sicuramente fino ad ora sviscerando tra i post, tra i messaggi utili che mi date sempre. Quindi vi auguro buona serata a tutti e poi noi ci vedremo sabato. Per adesso buon mercoledì a tutti e grazie.